Beh, se a Lana non si parla d'altro, poco ci manca. Ex Sex, fiera erotica in programma dal 6 all'8 novembre presso la discoteca Exclusive Club, storico locale notturno di Lana, sta facendo discutere a Lana, ma non solo, un po' in tutto l'Alto Adice. Tra la gente tutti sanno dell'evento hot organizzato per questo weekend, ovviamente, la popolazione è divisa sull'argomento. C'è chi si dice nettamente contrario a manifestazioni di questo tipo, chi è sostanzialmente indifferente e chi invece è addirittura entusiasta che in Alto Adice venga organizzata una rassegna a luci rosse, come avviene già nella vicina Austria e anche nel resto d'Italia, dicono i favorevoli. Girovagando per Lana e facendo una sorta di mini-sondaggio, abbiamo trovato tutto sommato poche opinioni nettamente contrarie alla manifestazione che vedrà la partecipazione di pornostar e sexistar provenienti da tutta Europa. Inizialmente pare che il sindaco avesse estorto un tantino in naso, visto che in tanti si erano rivolti al primo cittadino dicendo che a Lana non abbiamo bisogno di queste cose. L'organizzatore Georg Hassanin giudica la reazione più che normale e giustificata dalla novità dell'evento. All'inizio era un po' strano perché, sa, una fiera notica a Lana, tutti si sono un po' meravigliati, ma diciamo è sempre quando fai una festa particolare che non è stata fatta, che la prima viene discusso di più di una festa normale che viene fatta già da dieci anni, per dire. Di un Octoberfest parla più nessuno, per dire, perché sono tutti gli anni un sacco di queste feste. Questo è un evento nuovo dove la gente verrà a visitarlo perché diciamo il sindaco anche all'inizio ha detto per conto suo chi vuol venire viene perché è dentro nel palco chiuso, gente sotto dieciott'anni non può entrare, è tutto nel legale e poi non vedo problemi. Insomma è tutto a norma, puntualizzano gli organizzatori, il locale è in regola con licenze e permessi vari e anche gli spettacoli hard si svolgeranno sì, ma nel pieno rispetto della normativa. Grazie a tutti.